Buonasera, ben trovati alle TG Med Sport. TG Med Sport con il Palermo in primo piano perché si avvicina la sfida di Siena. Si gioca, lo ricordiamo, lunedì sera al Franchi. Una trasferta non troppo felice negli ultimi anni per il Palermo. Con la spinta però questa volta di tanti ex, a partire non soltanto da Beppe Iachini in panchina, sulla panchina dei Toscani sino alla passata stagione, ma anche con tanti protagonisti in campo a partire da Terzi e Bolzoni. Proprio il difensore del Palermo parla di cambio di sistema di gioco, soprattutto in difesa, e come e perché alla fine questo cambiamento non può causare troppi drammi al reparto arretrato del Palermo. Ascoltiamo. Io Iachini lo conoscevo già, è un grande allenatore, parlano per lui i risultati, quindi sicuramente ha lavorato tanto sotto profilo sia fisico che tattico, ma sicuramente noi ci siamo dati un po' una svegliata perché lo dovevamo fare, visto che l'inizio è stato un po' titubante. Per il resto il lavoro in campo in settimana è quello che poi ti riesce a far vincere la domenica o comunque a fare risultati positivi. Penso che i giocatori nella fase difensiva che ha di esposizione del mister possano interpretare tutti e due le difese. Sicuramente con una difesa a tre sei più coperto, perché è un uomo in più, perché alla fine giochi a cinque, perché quando comunque ti difendi i due esterni tendono ad abbassarsi e è un po' più di copertura. Sicuramente per tutti e due i moduli bisogna lavorare in campo, perché comunque Iachini ha delle idee ben precise di linea alta e di comunque cercare di tenere la squadra più alta possibile. Per quanto riguarda la mia posizione, a tre posso giocare penso in tutte e tre le posizioni della difesa, non è un problema per me, infatti come a Brescia ho giocato centrale, in casa contro Pescara ho giocato a sinistra, quindi per me, e l'ho già fatto che Iachini sia a destra che a centrale che a sinistra, quindi non è un problema. Due allenamenti oggi per il Palermo, rientrano tutti i nazionali rinfrancati dalle prestazioni di queste due sfide con ancora la posizione in bilico di Hernandez, che con il suo Uruguay ha conquistato comunque l'accesso per i play-off, si giocheranno a metà novembre contro la Giordania, partita da dentro o fuori per capire se ci sarà il mondiale anche per l'Uruguay e ovviamente anche per Abel Hernandez, comunque Iachini a disposizione tutti, stanno recuperando anche Barreto e Di Gennaro con un lavoro differenziato programmato, passando sempre in Serie B, ma a Trapani, Antimo Junco, è sicuro che il Trapani può tranquillamente nelle prossime giornate continuare il trend positivo che ha ripreso soprattutto dopo le ultime due giornate di campionato. Ascoltiamo. Una delle partite più belle che si sia mai vista negli ultimi anni, due squadre propositive, due squadre che hanno pensato solo ad attaccare e mai a difendere, nel senso giusto della parola, però credo che sia stata una grande prestazione, ci fa veramente bene a tutti quanti perché comunque andare ad affrontare il Varese che è una squadra che vuole puntare in alto e metterla in difficoltà per noi è un bene, dobbiamo prendere le cose buone fatte fino adesso, prendere le cose che non abbiamo fatto meno buone, lavorarci come abbiamo sempre fatto e sperare di andare avanti così e raccomulare i punti possibili. Ma queste sono le classiche squadre molto, molto difficili da incontrare, per il semplice motivo che è una squadra che non fa un calcio brillante, però in questo periodo è concreto.